In attesa della sua proclamazione a Presidente della Regione, Roberto Chiuto si porta avanti con il lavoro e pensa già a come affrontare e risolvere la crisi della sanità in Calabria, cavallo di battaglia di tutti, concorrente alla poltrona di Governatore. Quella sulla sanità è una partita importante che si gioca, non solo perché il costo per tenere in buona salute la Calabria e i calabresi supera di gran lunga la metà del bilancio regionale, ma perché a livello politico risolvere la crisi nel settore apparirebbe come una grande vittoria della politica locale su quella nazionale, alla luce dei vari fallimenti collezionati con gli oltre 11 anni di commissariamento. Occhiuto ha già manifestato l'intenzione di avvocare a sé la gestione della salute pubblica regionale, ma, come scrive oggi la Gazzetta del Sud, lo farebbe facendosi dare una grossa mano da Maurizio Bortoletti, un ex ufficiale dei carabinieri che in questo settore sembra disporre di una sorta di bacchetta magica. E' lui che da commissario all'ASP di Salerno in pochi anni ha risolto una voraggire economica portandola addirittura ad una chiusura in attivo, riportando i livelli essenziali di assistenza sanitaria nella provincia partenopea a quelli standard del resto del paese. D'altronde, se i vari commissari che si sono alternati avevano poco nulla a che fare con bilanci e scartoffi in campo sanitario, Bortoletti sicuramente non partirà a zero e proverà a mettere a disposizione della disastrata contabilità sanitaria della Calabria tutta la sua esperienza maturata in campania, purché lo stesso ex ufficiale dei carabinieri accetti la proposta di Roberto Echiuto che gli ha fatto nel corso di un recente incontro a Milano.